Non addurre troppo presto le scapole in trazione. Vi mostro cosa succede se andiamo ad addurre troppo presto le scapole. Vado a deprimere tiro. Adducendo qua, come vedete, la postura si estremizza. Io dovrei stare così, invece, adducendo, il mio corpo tenderà ad andare più in diagonale. L'adduzione delle scapole deve andare a chiudere la nostra trazione e consentirci di avvicinarci alla sbarra.